Questo è un progetto che era necessario già prima dell'emergenza del coronavirus. Adesso che c'è l'emergenza è ancora più necessario e a discapito di quanto alcuni dicono è necessario presentarlo proprio ora. Per un fatto, io sono molto pragmatica perché vengo dall'imprenditoria privata e quindi conosco bene quelli che sono i problemi dell'imprenditoria privata. E so già che dopo questa emergenza ci sarà tanto da ricostruire e ci sarà un'emergenza economica a cui far fronte. E' questo il momento di approfittare della cosa per strutturare un progetto. E' come se stessimo preparando la macchina per essere pronti alla griglia di partenza e ripartire. Già da adesso ci sono dei fondi che sono intercettabili grazie a questo progetto. Il progetto prevede diversi step. Prevede anche una cosa importantissima che era necessario fare da tempo che la nomina dell'energy manager. Grazie a questo noi riusciremo a intercettare da subito dei fondi importanti. E così quando si ripartirà avremo dei tavoli di lavoro operativi, non solo consultivi. operativi perché in questo caso il privato sarà aiutato dal pubblico ma deve aiutare il pubblico. Deve aiutare tramite progetti a portarli avanti. Deve aiutare nello scrivere progetti che potrebbero andare a richiedere fondi europei. Deve aiutarlo in diversi aspetti che poi descriverò questa sera.